Con i depositi bancari remunerati a tasso zero, per cui il loro valore reale è diminuito in misura pari all'impennata dell'inflazione, il costo per le famiglie venete sarà di oltre 7.200 euro. Nel biennio 2022-2023 i conti correnti dei veneti subiranno una sforbiciata da 15 miliardi e 100 milioni di euro e il conto salato di un periodo contraddistinto da un'inflazione che nel nostro paese non si vedeva da decenni. Un fenomeno che, secondo i calcoli della CGA di Mestre, costerà mediamente 7.253 euro ad ogni famiglia veneta. Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi, traccia un parallelo col prelievo straordinario del 6 per mille sui conti correnti che fu applicato nel luglio 1992 dal governo Amato per permettere alla lira di restare agganciata al sistema monetario europeo. Un importo che oggi varrebbe 5,3 miliardi di euro, niente rispetto a quanto sta accadendo oggi. Una patrimoniale 31 volte superiore al prelievo sui conti correnti introdotto nel 1992 dal governo Amato. È urgente intervenire subito. La perdita di potere d'acquisto sta impoverendo tutti, in particolar modo i ceti medio-bassi. A livello territoriale, il costo medio più salato è per le famiglie residenti a Treviso, con un prelievo medio di 7.948 euro. Padova e Verona sono poco sopra i 7.500, Venezia è penultima in Veneto, prima di Rovigo, con 6.143 euro a famiglia.